Buongiorno a tutti sono qui per presentare e spiegare perché pubblico il video di oggi si tratta di un video girato nel maggio 2021 quando ancora ero in possesso della MT09SP l'amico Domenico mi chiedeva se avevo un video riguardante la Val Tramontina, da Tramonti fino al lago Cadizui mi sono accorto che avevo girato il film degli spezzoni però non ho mai montato il video, il filmato e non l'ho mai pubblicato allora andiamo a correggere questo errore viste che per gli amanti del freely questo posto è meraviglioso sfugge agli occhi di tutti perché ci passiamo tutti quanti davanti senza mai accorgirci di questo posto stupendo allora non è possibile legalmente arrivare al lago Cadizui perché la strada si diciamo interrompe sopra il lago Cadizelva in quanto diventa proprietà privata pertanto abbiamo rispettato la proprietà privata e non ci siamo andati, mi sono fermato prima comunque spero che il video sia già così abbastanza esaustivo, spero di aver mostrato delle parti più belle dei panorami abbiamo dei problemi di fruscio in quanto sulla Nake diciamo è un problema persistente comunque cerchiamo di goderci questo film grazie per la richiesta e grazie per la visione a tutti grazie 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 a tutti. 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 a tutti.